16 kg d'oro e 250 di argento, insomma un vero e proprio tesoretto all'interno della fabbrica ritrovato grazie ad una soffiata arrivata dall'interno. Questo quanto recuperato nel corso del blitz della Guardia di Finanza all'interno della Castoro di Castiglion Fibocchi, l'azienda retina finita al centro dell'inchiesta Pietra Filosofale della Procura di Bologna per un giro milionario di riciclaggio con la Turchia. L'azienda era infatti finita nel mirino degli inquirenti lo scorso dicembre al termine di una lunga indagine che aveva preso avvio nel 2015 erano finite in manette 10 persone tra queste anche alcuni eretini, si tratta dei titolari della Castoro, i fratelli Simone e Rita Jacopi ora i domiciliari del figlio di quest'ultima Giacomo Baldini e di Alessio Frasconi uno dei condannati di Fort Knox tornato adesso in libertà ma con l'obbligo di dimora. Il blitz è avvenuto nei giorni scorsi, adesso dovrà essere accertata la provenienza dell'oro nascosto dentro tre fusti di acido e dell'argento occultato invece nel doppio fondo in una vasca di materiali di scarto. Intanto il prossimo lunedì ripartirà la produzione dell'azienda come disposto dall'amministratore giudiziario. Il GIP ha inoltre autorizzato le assunzioni di un capofabbrica e di un altro profilo professionale dunque possono tirare un sospiro di sollievo i 25 dipendenti che potranno così riprendere il lavoro.